Manco la squadra è partito poco dopo le 15 dalla sede di via Cadorna in direzione di Albiano Trento. La squadra alloggia presso l'albergo Lago di Santa Colomba a quota 922 metri d'altitudine. Le 10 sul terreno insentetico di Albiano è in programma un allenamento. Nel pomeriggio alle 16 la castellanzese affronta in amichevole il Trento serie D, evento che vi racconteremo nella consueta forma che caratterizza le partite ufficiali dei neroverdi.